Ho sequestrato la persona di Danti per una promozione spontanea del nostro nuovo singolo. Sei un figlio di puttana, Marta. Sei un figlio di puttana, Marta. Parla! Parla! Si, sei un figlio di puttana. Parla! I numeri due mi fanno cagare al cazzo. Non vi faccio promozione, me lo chiedevate in un altro modo, succhiatemi il cazzo. Baciatemi, cia minchia! Hai capito, suca! Dillo! Dillo! Sei un coglione, mi fanno male i polsi, Buster, basta. Basta. Vabbè, adesso vediamo se liberarlo. Adesso vediamo, vedremo, vedremo.